Oltre a Guido Monaco e Piazza San Francesco, anche Via Cavour sarà interdetta al traffico, tranne che per i residenti e altre eccezioni, nei fine settimana di dicembre. La decisione è del comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, ed è dettata dall'incredibile afflusso di turisti in questi fine settimana di dicembre per la città del Natale. Un provvedimento è arrivato nel giro di poche ore per snellire traffico e code e che scatta ogni sabato e domenica dalle 14 alle 20. È dunque istituito il divieto di transito dei veicoli in Via Cavour e ancora in Via Guido Monaco nel tratto compreso tra Via Garibaldi e Piazza San Francesco e la stessa Piazza San Francesco. Nelle stesse giornate e fasce orarie c'è anche il divieto di accesso di ogni veicolo da Piazza Guido Monaco in direzione del tratto di Via Guido Monaco compreso tra la Piazza e Via Garibaldi ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio di Piazza del Popolo. Le altre eccezioni riguardano i veicoli di polizia, dei mezzi di soccorso ed emergenza, i servizi per le persone diversamente abili, i taxi e i residenti e i veicoli ad esclusiva propulsione elettrica.